L'episodio della piccola maltese uccisa da un cane di grossa taglia ad Arezzo ha senza dubbio scosso la città, un'aggressione che si è consumata all'interno del frequentato parco di Villa Severi. Adesso il Consiglio Comunale, su proposta dell'assessore Giovanna Carlettini, ha approvato il regolamento per l'accesso e l'utilizzo delle 20 aree per cane distribuite fra 18 parchi pubblici cittadini. Il regolamento prevede che le aree in questione siano individuate da un apposito cartello posto in prossimità dell'ingresso con la dicitura Area pubblica di sgambamento per cani. Vi potranno accedere sulle cani accompagnati dai proprietari, gli amici a quattro zampe. Dentro l'area dovranno poi essere sei al massimo iscritti all'anagrafe canina e identificati da un apposito microchip in buono stato di salute e sottoposti ai trattamenti preventivi vaccinali ed antiparassità. I cani nelle aree in questione potranno stare in libertà senza guinzagli e museruola, ma i responsabili devono comunque essere muniti di entrambi da utilizzare per motivi di sicurezza in caso di necessità. Se ci sono poi persone in attesa fuori con i loro animali, il cane all'interno potrà sostarvi per un massimo di mezz'ora. È infine vietato lasciare a terra rifiuti di qualsiasi genere e deiezioni. La vicinanza su queste aree è svolta dalla Polizia Municipale e dalle guardie zoofile autorizzate.